Musica Si avvicina l'inverno, le mamme sono costrette a tenere i loro bimbi a casa per il freddo, portarli a giocare al mare o al parco dunque non è sempre possibile, ma giocando con la creatività c'è un modo divertente per trascorrere i pomeriggi. Da Terra Alba, Chiara Pottini Buongiorno, oggi vi portiamo nel mondo fantastico dei personaggi di Plastilina, di un'artista molto molto speciale, un mondo fatto di giungle, di foreste, di fattorie, di sogni, di cartoni animati e tutto questo non solo per far volare gli adulti nel mondo della fantasia, ma soprattutto per aiutare i bambini a crescere. Vedremo tutto questo nei prossimi collegamenti per ora all'Ina e allo studio, a più tardi. Un'artista con la plastilina e la sua fantasia immagina mondi fantastici per far divertire i bambini. Torniamo a Terra Alba con Chiara Pottini. Buongiorno, eccoci tornati nel mondo della plastilina. Come vedete siamo circondati da animaletti, barba papà, personaggi dei cartoni e soprattutto ci ha raggiunto l'artista Monica Tronci. Allora, come è nata questa passione? È una passione che avevo già da bambina, poi come succede per tutti l'ho abbandonata perché si fanno altre cose, però ho sempre avuto la passione per il disegno. Poi quest'anno è capitato per caso che ho ripreso in mano la plastilina e da allora ho cominciato a creare e non mi sono ancora fermata. L'ispirazione è c'è. Ecco, quindi sta diventando un lavoro per te, hai fatto dei laboratori per i bambini e questa è l'importanza della tua attività. Ci li racconti? Sì, faccio laboratori per i bambini e i bambini sono molto contenti di giocare con la plastilina perché ritrovano la manualità che solitamente non hanno, diciamo i bambini di oggi non lavorano come lavoravamo noi da bambini, quindi appena si trovano la plastilina tra le mani creano come se fosse il loro gioco di sempre, diciamo, si trovano subito bene. Tu proponi loro storie, com'è che avviene l'approccio con loro? Allora, io propongo alcuni personaggi, gli faccio scegliere quali fare, tipo tra i miei vari, gliene faccio scegliere tre e spiego ai bambini come si devono fare e ognuno lavora per conto suo. Invece, per esempio, ho fatto un laboratorio creativo sul treno, ognuno aveva il suo compito, doveva preparare dei pezzi, dei vagoni, finestrelle, ruote, binari, traversine e alla fine abbiamo creato un treno lunghissimo, diciamo che è stato un lavoro di squadra. Ecco, a questo proposito vogliamo proprio parlare dell'importanza della creatività, della manualità nella crescita dei bambini. Qui con noi ci ha raggiunto Raffaela Tore, è una pedagogista e si occupa proprio di questo, ha collaborato con Monica per realizzare questi laboratori. Ci racconti la tua esperienza? Sì, intanto i laboratori sono stati un'occasione di collaborazione, soprattutto dai bambini e come diceva Monica, oggi i bambini sono abituati a stare più in solitudine, anche perché utilizzano il videogioco, il computer. Ecco, l'importanza del laboratorio è proprio e soprattutto questo, riuscire a riportare i bambini, a collaborare con i propri contani, quindi a sperimentare proprio il fare produttivo, l'approccio a dei materiali nuovi, che favorisce sicuramente un apprendimento più significativo. E magari anche divertendosi? Altro che, anche divertendosi. Ecco, proprio di divertimento di bambini molto piccoli dai 3 a 5 anni, parleremo ancora nel prossimo collegamento per ora, lì nello studio. Con il freddo le amme sono cosete, inventarsi un po' qualcosa per tenere i bimbi a casa, per stimolare la loro creatività e vediamoci un modo divertente e istruttivo. Ne abbiamo visto un po' di anticipazioni nei primi collegamenti, continuiamo da Terralba con Chiara Pottini. Eccoci tornati nel laboratorio di Monica, nel frattempo lei ci mostra come nasce una delle sue creazioni. Monica, tu con i tuoi personaggi aiuti i ragazzi ad inventare delle storie, dei veri propri libri, giusto? Sì, facciamo un altro tipo di laboratorio che prevede prima la plastilina, poi il ritratto del proprio personaggio, quindi disegno e poi facciamo scrittura creativa, ogni bambino dà il nome al personaggio e i dialoghi e si fa la trama tutti insieme, ogni bambino contribuisce con la sua fantasia. In questo c'è una sorta di compenetrazione anche con i cartoni animati che vedono, la televisione, sono facilitati da questo in qualche modo? Sì, sicuramente loro vedono tanta televisione, quindi vedono tante storie diverse, tanti intrecci, insomma ormai hanno anche la mente molto elastica, sono pronti a inventare insomma. Quindi non solo Monica ovviamente ha avuto l'idea di questi laboratori creativi, ne stanno nascendo molti sia in Sardegna che nel resto d'Italia, un po' per sbarcare il lunare, un po' per passione nei confronti dei bambini. Noi a Cagliari siamo andati a conoscere due ragazzi, un ex insegnante elementare di Milano e una laureata in scienze dell'educazione, hanno appunto realizzato uno di questi laboratori e ora vediamo insieme che cosa ci raccontano della loro storia. Quindi mamme e bambini soddisfatti, sembra proprio che questi laboratori funzionino. Tu Monica fabbrichi sogni per i bambini, per i ragazzini, ma qual è il tuo sogno? Il mio sogno sarebbe fare un programma tipo Art Attack, lo conoscono tutti, quindi fare e andare in tv, fare un programmino e insegnare ai bambini a fare i miei personaggi. Quindi unire la manualità e il mezzo televisivo. Sì, perché secondo me la gente ha proprio voglia di imparare. Bene, speriamo che il sogno di Monica si realizzi. Da Terralba è tutto, linea allo studio. Adesso gli aggiornamenti dalla redazione con Paolo Mastino.